sinceramente a me chi chi vuole dire che questo virus è una livella democratica fa retorica perché in realtà non siamo affatto tutti sulla stessa barca non siamo sulla stessa barca d'alzano e a ragusa dove c'è stato un morto di 90 anni e basta non siamo sulla stessa barca in un paese che ha un sistema sanitario nazionale come il nostro e in uno che invece non c'è non ce l'ha come per esempio l'uganda che si prende il covid in uganda non è la stessa barca quindi diciamo che invece questo virus al massimo ci sta dimostrando che proprio col sistema vigente c'è questo capitalismo globalizzato non siamo affatto sulla stessa barca sì ci possiamo ammalare tutti del virus ma ma le conseguenze sono sono differenti sia dal punto di vista geografico che socio economico e quindi questo ha creato in realtà tutto l'opposto cioè invece della compassione di cui ci sarebbe sicuramente bisogno io ho visto un crescente odio fondamentalmente tra le persone la fa il famoso fenomeno della delazione per esempio c'è la caccia al runner al passeggiatore solitario fatta da quelli che invece ritengono che non si deve manco prendere aria al balcone tutto questo vedo un grosso scollamento dei valori positivi della convivenza sociale e civile e quindi insomma il discorso della stessa barca secondo me e non non funziona e purtroppo non si verifica soprattutto e poi invece sono d'accordissimo sulla sulla malattia che proprio una vera e propria malattia dell'infodemia che ha portato questo lo vedo dal punto di vista della comunicazione ha portato all'assoluta incomunicabilità di tutto cioè una volta cioè ora gli scienziati per esempio stanno facendo un lavoro pessimo di comunicazione dell'epistemologica diciamo contraddice prendendo parte a un dibattito pubblico che è fatto più da opinionisti e non facendo invece seguire il giusto corso al dibattito scientifico che vuole tempo vuole esperimenti vuole risultati vuole confronti si sono fatti coinvolgere in questo panico infodemico nel quale ognuno deve dire la propria senza averne poi che lo stesso problema che hanno avuto certi poeti fondamentalmente e la stessa cosa avviene con gli intellettuali sicuramente loro hanno perso autorevolezza nel dibattito pubblico da da tanto tempo e lo confermano anche in questa in questa occasione senza dubbio e niente quindi questo qua cosa è dovuto secondo me è dovuto alla paura cioè qui c'è la paura di morire e quindi la paura di morire porta a tutte queste reazioni schizofreniche soprattutto anche nella comunicazione e porta a un pensare che che insomma siamo tutti con che corriamo lo stesso rischio quando in realtà ripeto non è vero per motivi anche strutturali di ripeto io qua ragusa non ho corso lo stesso rischio di uno che sta a voi euganeo a codogno alzano lombardo ci sono poi delle cao dei motivi anche scientifici di questo ma non voglio approfondire io un discorso che non è non è il mio campo io invece vorrei far riflettere su una cosa cioè ho visto poca paura di avere paura la famosa paura di avere paura di cui parlò calvino in merito alle brigate rosse quando montale disse che aveva avrebbe avuto paura a fare il giurato in un processo alle brigate rosse calvino disse no io invece ci andrei perché ho paura di avere paura ecco secondo me questa è potrebbe essere una chiave interessante